C'è un piccolo volume nell'armadio della Canonica, 65 pagine di foto e di appunti sparsi. È il breviario della vita di Don Giuseppe Sbuttoni. Sono i suoi ricordi di ragazzo e proprio a pagina 65 si legge. In agosto nel campo sotto la chiesa alcuni uomini mi chiedono se avessi voluto fare il prete avvisandomi del vantaggio di poter stare in casa all'ombra e lavorare poco. Non è stato così. Don Giuseppe il prete l'ha fatto davvero ma ha lavorato e continua a lavorare parecchio nella parrocchia di Mortizza. Stretto tra l'autostrada e il Po in una bassa dove gli argini tengono a freno il fiume questo mona ha eretto il suo argine. Prima la droga poi la prostituzione. Ormai sono 28 anni che sono qui. Quando sono arrivato qui il problema più pesante era la droga. Un mondo che io non conosco neppure adesso. Però purtroppo molti ragazzi ci hanno lasciato la vita. All'inizio questo fenomeno negli anni 80 non si conosceva la pericolosità e si era diffuso in queste zone vicino al Po. E connesso c'è anche la prostituzione. Eh ma quegli anni lì diciamo era un fenomeno isolato. C'era qualche donna, le mose, quelle vioce lì di campagna. Ma era molto molto contenuto. Poi di colpo questo aspetto è peggiorato. Dalla città le hanno mandate fuori e sono venute a finire alle mose o a zona del cimitero o alla strada dei corte maggiore eccetera. E sono divise le strade. Da una parte ci sono le africane e da una parte ci sono le bianche. Ma io non mi fermo su quel problema. Non vado solo, non mi fermo sulla strada. Io chi viene alla porta, qualunque genere possa essere bianco, nero, rosso, indipendentemente da quello che fa e in base a quello che chiede se posso lo aiuto. Un centinaio le donne che Don Beppe ha tolto dalla strada, molti delle quali straniere, africane soprattutto, che grazie a lui sono riuscite a liberarsi dalla schiavitù della prostituzione e a rifarsi una vita. Ogni tanto bussano ancora alla porta della canonica accompagnate dai loro figli. Vengono ancora perché sono sposati, hanno i bambini e alcune lavorano, sono indipendenti. Alcune non si sono più fatti vedere, hanno cambiato anche città. Alcune che sono rimasti in questa zona vengono perché sono a casa dal lavoro, perché non hanno ancora ripreso dopo la maternità. C'hanno i bambini da comprarci il latte, le scure sono tantissime. Ormai i primi bambini fanno già le medie. E sanno già che quando toccano il tazzo dei bambini poi ottengono. O quello che si può, quello che posso fare io lo do. Preferisco dare cose da mangiare. Quante donne ha tolto dalla strada? Questo è stato fatto insieme a volontari, insieme all'associazione, insieme a tante persone. Diciamo che abbiamo aiutato a fare i documenti e a venire via. Di preciso adesso dirlo non si sa bene, ma in questi 15 anni un centinaio si può dire. Racconta Don Beppe, ha tanto da raccontare, come quella volta che venne fermato in città da una coppia di giovani ivoriani spaesati. Non avevano documenti. Lui li ha aiutati a mettersi in regole, a trovare un lavoro, perché i preti funzionano anche da agenzia di collocamento. La Chiesa ne ha tanti ruoli. Di stare con gli ultimi, di aiutare, di venire incontro, di darsi un po' da fare, di più, certamente, però siamo sempre meno e tutti da una certa età. Non avesse incontrato Don Beppe, probabilmente anche la storia di Bernadette avrebbe preso un'altra piega. Come hai conosciuto Don Beppe? Ho conosciuto Don tramite una ragazza nigeriana che era venuta qua come ero nuova. Lei ha detto, guarda che, ho detto, si poteva trovare una persona per aiutarmi, sai, per documenti, venendo qua, cioè non hai documenti e tutto per cercare di trovare un lavoro, una cosa del genere. Lei mi ha detto, guarda che io conosco un parroco, vieni, che è molto gentile, molto bravo. Cerchiamo di vedere se riesce a inserirti. Quanto è stato importante per te aver incontrato Don Beppe? Molto, molto importante, posso dire, perché mi ha aiutato molto. Mi ha aiutato a inserirmi, mi ha aiutato nei primi passi a trovare un lavoro. Ho fatto di tutto, diciamo. Ho messo la mano nella pasta per fare qualsiasi lavoro, nel senso dalla babysitter alla barista e tutto. Poi le persone che conosce lui erano molto simpatici, ecco. E ancora oggi Don Beppe è un punto di riferimento. Sì, ogni tanto vengo a trovarlo quando posso, perché adesso il lavoro che ho fatto prima sono riusciti anche a cercare, a stabilirmi, cioè per dire, la mia vita, a sistemarmi e tutto. che dopo l'ultimo passo che ha fatto per me, lavoro come cameriera, e dopo di là ho cercato anche un po' e mi sono sistemata bene, grazie a lui. Non ti sei mai chiesta, non avessi incontrato Don Beppe, come sarebbe andata? Sì, mi sono chiesta, però mi sono detto, per me, visto che io mi dico come sono molto credente, magari venendo qua era stato tutto segnato così. Poi l'ho incontrato, poi mi ha spinto e diciamo che ho cominciato, come si dice in francese da noi, ho cominciato a volare delle mie proprie ali, ecco. Grazie a tutti.